Ehm, ciao! Oggi siamo in un nuovissimo video di Minecraft e oggi andremo a fare una cosa abbastanza interessante e abbastanza carina Perché mi sono chiesto, noi tutti giochiamo da tantissimo tempo a Minecraft ma spesso facciamo certe cose di cui neanche ci rendiamo conto ma sono tipo super strane E oggi andremo a vedere tutte le cose strane di Minecraft che mi sono venute in mente in questo video Fatemi sapere nei commenti quale secondo voi è la più strana e anche se ne conoscete delle altre strane che effettivamente in Minecraft non hanno molto senso E ovviamente lasciate anche un mi piace e scrivetevi, con cose strane ovviamente non intendo il fatto che un albero stia in piedi anche se manca un blocco Perché ormai questo è risaputo su Minecraft, intendo proprio dei funzionamenti del gioco Per esempio l'ansia debris, no? Che è un blocco bellissimo che se lo buttiamo nella lava sappiamo tutti che esso non brucerà Perché vedete ritorna qui, lo buttiamo, però in realtà non si brucia Perché se mettiamo l'ansia debris in una fornace e la cuociamo invece si smelta? Quando invece buttandolo nella lava non funziona? Non ha senso, questa cosa non ha senso Altra cosa che ha ancora meno senso è il fatto che io possa prendere la lava con un secchiello di lava E posso andare in giro tranquillamente, faccio tutto quello che voglio col mio bel secchiello Però nel momento in cui mettiamo la lava, invece mettiamo il secchiello nella lava Questo si brucia e non lo possiamo più recuperare, quindi è scomparso per sempre Che senso ha? Non ha senso, sbaglio? Quante volte invece c'è capitato di incontrare una strega e di rimanerne avvelenati? Ma tanto non vi dovete preoccupare perché se nella vita il veleno vi uccide Su Minecraft il veleno 10 per tempo infinito state pur tranquilli che vi lascerà con mezzo cuore Perché? Perché questa cosa? Cioè il veleno dovrebbe uccidere dato che è il veleno Però no, su Minecraft rimaniamo con mezzo cuore Vedete, è mezzo cuore però siamo vivi Quindi non ha molto senso, non è un veleno Lo chiamerei veleno io Ovviamente se ci buttiamo nella lava però moriamo lo stesso E infatti Altra cosa curiosa è la redstone Perché io non me ne intendo molto di redstone Ma sappiamo tutti che mettendo questa cosina qua che è la polvere con un qualcosa di attivabile Mettendo della redstone questo si attiva Ma allora perché se io mettessi due blocchi sopra e spaccassi questo Il pistone rimane attivo Non ha senso, questa cosa possiamo farla all'infinito Cioè guardate possiamo farlo anche qui, anche qui, qui, qui No qui no ovviamente qui, qui Perché? Non c'è la redstone che tocca Non ha senso questa cosa Non ha senso Infatti se mettiamo della redstone qua sotto vedete che non ha segnale È una cosa non sensata Anzi oserei dire che è proprio, proprio strano No insensato Ecco qui Partono a caso Vabbè ok va bene Pensiamo invece alle api Che sono un bellissimo mob di minecraft Come vedete un sacco carino È stato aggiunto nelle ultime versioni Però un'ape nella vita reale è minuscola Mentre su minecraft è più grande di un pappagallo e anche di un pollo È molto strana questa cosa effettivamente Guardate quella lì è enorme quell'ape Poi c'è il pollo e poi c'è il pappagallo Che vabbè è minuscolo Perché? Non... Perché? Perché sei così grossa? E soprattutto come fanno tutte queste api? Perché negli alveari spesso ce ne stanno da 3 a 5 se non erro Come fanno a stare tutte qui dentro? Ecco questo era vuoto Però Oh mio dio ce l'hanno con me ora Ce l'hanno con me Scusatemi non era mia intenzione Però vi dovete dire come fate a stare in così tanto dentro un piccolo alveare Se siete così enormi Fuggi Nico per favore Fuggi Su minecraft abbiamo la possibilità di portare con noi gli animali tramite l'uso del lazzo E fin qui ci siamo tutti perché si può fare da una vita Il problema è che questo lazzo noi non lo teniamo in mano a differenza di tutti gli altri oggetti Perché se prendiamo un arco per esempio ce l'abbiamo in mano Questo lazzo è collegato a... non si sa che cosa È collegato alla nostra cintura? È collegato al nostro fianco? Credo? Non so a che cosa Però è molto strano È l'unico oggetto che non abbiamo effettivamente in mano Perché se prendiamo delle frecce anche queste le abbiamo in mano se le mettiamo di qua vedete Il lazzo no, il lazzo si attacca al nostro fianco, alla nostra cintura Non si sa come E ci permette di portare via l'animale Però non so sinceramente dove tu sia attaccato Un'altra cosa strana è il mangiare Perché ancora c'è qua il mio pollo che mi segue Perché possiamo mangiare una torta in meno tempo Una torta intera che non so se avete presente quanto è grande La possiamo mangiare nella bellezza di... Finita Mentre una mela per mangiarla ci mettiamo... Così tanto Non ha molto senso questa cosa Va bene, va bene Tu mi segui per tutto il video? Va bene, seguimi per tutto il video Ti darò un nome Da oggi tu sei Pino No, ti ho tolto il lazzo Ciao Pino Perfetto, ora vieni con me Mi raccomando nei commenti Scrivete un bel ciao Pino Su Minecraft Il falò fa del danno Come ben sapete camminandoci sopra Allo stesso modo la rosa del Wither Da Wither Ma perché questo blocco Che ha una motosega sopra Che serve per tagliare la pietra Pino, cosa ne pensi? Grandissimo Pino Se ci andiamo sopra Non ci fa assolutamente niente Cioè abbiamo una motosega Che ci sta tagliando i piedi Tipo, perché non stiamo prendendo danno? Perché? Pino, cos'hai da dirci? Vediamo se Pino muore Pino, vieni anche tu sopra lo stonecutter Niente, anche Pino è immortale Grandissimo Pino Sei il nostro idolo Pino, questa cosa non la guardare Che potrebbe farti mara gli occhi Perché infatti se abbiamo una spada Con looting 3 E andassimo a uccidere un pollo Che ovviamente non sia Pino Perché Pino è Pino Guardate che cosa succede Ci droppa la bellezza di 3 petti di pollo Il problema è che il pollo era soltanto uno Come fa ad averci droppato 3 corpi di pollo? È tipo impossibile come cosa Guarda, no Pino, ti giuro Non l'ho fatto apposta Mi stavo guardando malissimo Pino, no Pino Niente, si è offeso Pino guarda la nasconda Non ho fatto niente Te lo giuro No, non mi guardare così per favore Appoggiamo un attimino il grandissimo Pino qua Che dopo lo torneremo a riprendere Perché ora dobbiamo provare una cosa in acqua Infatti Se ci mettessimo qua sopra E facessimo cadere un anvil in acqua Come ben sappiamo E come dovrebbe essere Questa prenderà gravità E cadrà nel fondo Ma allora perché Se questa stessa anvil la prendessimo E la lanciassimo in acqua Questa invece che andare a fondo Galleggerà E tornerà su Come tutti gli altri item Non è uguale a questa qui Non è la stessa anvil E perché quella allora gallegge Questa invece è sott'acqua Minecraft non ha senso Cioè molte cose su Minecraft Non hanno assolutamente senso Pensiamo anche alle bacche Le bacche se le mettessimo a terra Una volta cresciute Queste ci faranno del danno Come è giusto che sia Ma allora perché Queste che sono rose Se ci passiamo in mezzo Non ci fanno assolutamente niente E non solo loro Perché neanche questi fiori qua E neanche questi fiori qua Che anche questi qua Sembrano delle rose E perché non ci fanno danno Mentre le berry si Non ha molto senso questa cosa E perché stanno crescendo Super velocemente Vabbè non Ok va bene Va bene tutto Torniamo dal mio pino Che mi manca Ciao pino Mi sei mancato Dobbiamo fare un altro esperimento Con un pollo Però non guardare Perché è una cosa brutta Infatti Oh sta prendendo fuoco tutto qui Ehm Oh cavolo Questa cosa non era voluta Ehm Ok perfetto Sistemato Se prendessimo un pollo E lo uccidessimo col fuoco Questo ci dropperà Della carne cotta E fin qui tutto normale No Anche così dovrebbe essere Nella realtà Il problema è infatti Se un pollo Lo facciamo morire In un falò Questo infatti morirà Però ci dropperà Della carne cruda Perché scusa Il falò è caldo Comunque dovrebbe cuocerla E poi se lo mettiamo qui sopra Si cuoce in automatico Come ben sapete Perché il falò Può cuocere anche gli oggetti E perché se lo mettessimo qua sopra Si cuoce Mentre se un pollo ci more Perché brucia Non è cotto Non Non ha molto senso Neanche questa cosa Immaginiamo ora di essere Alla fine della nostra Bellissima vanilla Che abbiamo tutto In nederite E siamo super potenti Bene Ora mi chiedo Perché se droppassimo Tutto questo All'interno della lava Questi oggetti Non brucierebbero E invece Oh cavolo Però io brucio Ah Mi devo spegnere Aiuto Corri Dicevo Mentre invece Se mettessimo Tutti gli oggetti Che non sono bruciati Un attimo fa Magari piccoli No Dentro una shulker E la lanciassimo Nella lava Questa si brucia Perché? Perché che senso ha? Non ha molto senso Sono morto Altra cosa che mi ha fatto pensare È la pesca su minecraft Infatti tutti sappiamo Che per pescare Possiamo Cioè dobbiamo in realtà Usare questo metodo Di lanciare una canna da pesca In un lago E aspettare che un pesce Abbocchi Sempre se ne abboccherà mai uno Ma io mi chiedo Perché quei pesci Che ci sono là sotto Non abboccano? Perché se ne fregano Completamente del mio amo? E stanno a nuotare Per i cavoli loro Non ha molto senso Cioè nel senso A parte che nessuno vuole Quell'amo Cioè scusatemi Perché non pesco? Ehi Eccolo qui Ecco facendo così Noi possiamo pescare Un bel salmone Ma perché se andassimo Sott'acqua E lanciassimo una canna da pesca Oltre ad andare su Questi qui Non se ne fregano Cioè Boh Gli abbiamo lanciato da sopra Ma loro non interessa nulla Ok lo sono andati su a guardare Però non abboccano Nel senso Guarda Tornato giù Non gliene frega assolutamente niente Non ha senso In compenso però Se prendessimo un secchiello d'acqua E andassimo vicino a loro Li possiamo catturare Anche questo non ha senso Perché non possiamo prenderli Con la canna da pesca Mentre con un secchiello d'acqua Sì Io Più ci penso Più mi viene da dire Ma perché? Un'altra cosa che mi chiedo Come sia possibile È scalare una scala Nel momento in cui abbiamo Uno scudo E un oggetto in mano Oppure scalare una scala Mentre stiamo mangiando O addirittura Mentre stiamo mirando con l'arco Cioè Nella vita reale Questa cosa è impossibile Stavo per sparare al signor Pino Mi sarebbe dispiaciuto un sacco Come facciamo? E saliamo soltanto con i piedi Non ci teniamo con le mani È tipo impossibile Mi scusi signor Maiale Lei è la cavia selezionata per il giorno Però Per favore Dai Non mi faccia fare questa brutta figura Stia fermo un secondo Ok È morto Com'è possibile comunque Non ha senso Pensiamo invece alle creature di Minecraft I grandissimi villager Che hanno un bellissimo villaggio In cui sono bene contenti Di vivere in una stanza Che è un grosso Un 3x3 Con un letto Tre scalini messi completamente a caso Oppure in una stanza Che ha una scala E un letto O comunque sono felicissimi Di vivere in uno spazio così piccolo Ma Perché i villager Devono vivere in uno spazio così piccolo Mentre i pillager Devono vivere Dentro una cosa di questo tipo Ehm A che cosa gli serve Ai pillager di preciso? No perché Mi sembra leggermente più grande Del villaggio E della casa di pillager E non so loro cosa facciano Qua dentro Hanno una sala di ricevimenti Hanno una sala per mangiare Hanno una libreria Hanno di tutto Però Boh Va benissimo Hanno anche una forgia Cosa è questo posto? Non lo so Comunque non ha molto senso Tutto ciò Un'altra cosa che mi chiedo Come sia possibile È perché non possiamo raccogliere Le frecce che gli scheletri lanciano Signor scheletro Mi devi lanciare una freccia Ehi Può lanciare una freccia Ecco Vedete questa freccia Non la possiamo raccogliere Perché non lo so Quando le frecce che lanciamo Noi player Invece possiamo Mentre invece Se lo uccidiamo Lui ci dropperà Delle frecce Che possiamo raccogliere Il tutto non ha senso Non mi ha droppato neanche Delle ossa Questo scheletro Ok Era pure rotto Molto bene Oppure quante volte Mi sono chiesto Come sia possibile Passare attraverso un quadro Questo quadro Cosa vuol dire Nel realtà possiamo passare Attraverso i quadri Non mi sembra una cosa Molto sensata Nel senso Dovremmo fare una cosa Di questo tipo Togliamo il quadro Entriamo Lo rimettiamo Invece no Abbiamo messo il quadro Possiamo tranquillamente Passarci in mezzo Perché ci mettiamo Meno tempo A spaccare Un pezzetto di legno Con delle mani Che a spaccare Una ragnatela Che raga Se pensiamo alla ragnatela Nella vita reale Cioè basta fare Vum E la togliamo In un secondo Perché ci vuole così tanto Su minecraft Ancora sto scavando Non ho ancora finito Avrei rifatto in tempo Già a distruggere Tutto l'albero a fianco E invece no Quello lì è pino Non è pino quel pollo Ehi aspetta un secondino Pino sto arrivando Oh finalmente abbiamo finito Tu sei pino Non sei pino Tieni questo pezzo di legna Non con l'ascia Ma col piccone Nonostante siano fatti Di owak È molto strano Queste si spaccano Con l'ascia E non con il piccone Mentre quelle altre Si spaccavano Col contrario Non Perché Perché se ci lanciamo Letteralmente sopra una barca Moriamo Mentre invece Se ci lanciamo Letteralmente dentro Una barca Oltre a non morire Questa non si fa niente Cioè è ancora integra È tutta perfetta Esattamente nuova di pacca Perché Quando su minecraft Piove Il sole non c'è Gli oggetti Come le torce La redstone Tutti questi tipi qua Rimangono accesi Continuano a bruciare Nonostante l'acqua Stia continuando A cadergli direttamente In testa Non ha senso Non ha senso Inutile dirlo Che questo Non ha senso Però è così Minecraft Qui ancora brucia Qui brucia Qui brucia Questo vabbè Bene o male Sono coperte Qui brucia Qui brucia Perché Perché se sopra Del grano Cadendo delle anvil Non fanno assolutamente niente Anzi Sono le anvil A rompersi E allo stesso modo La sabbia Se cade sopra del grano Questa si romperà All'infinito Mentre invece Se saltiamo noi Su del grano Questo Scomparirà Perché Siamo più pesanti Di un anvil Siamo più pesanti Di una cascata di sabbia Perché camminare Su dei magma block Da shiftati Non ci fa danno Mentre invece Se camminiamo normalmente O se corriamo Ci fa del danno Non ha molto senso Perché se il pavimento Fosse davvero Così tanto caldo A camminarci lenti Dovremmo sentire più danno Quindi dovremmo fare Il più veloce possibile Invece no Se facciamo il più veloce possibile Prendiamo lo stesso danno E anzi Stiamo anche rischiando di morire Mentre no Shiftando stiamo niente E corriamo Invece moriamo Shiftando niente E corriamo Moriamo Perché su minecraft Possiamo mungere Una mucca all'infinito E questa Avrà sempre del latte Sarà Oh mamma mia Ok guardate È infinito questa cosa Posso continuare Praticamente per sempre E soprattutto Le mucche Se fanno del latte Vuol dire che sono tutte Mucche femmine Perché altrimenti Sarebbero dei tori E allora Se sono tutte mucche femmine Come fanno a fare il mucchino Perché invece Se pensiamo a questi tre blocchi C'è una lanterna Un pot E un'altra lanterna Che sono tutti pressoché uguali Perché hanno tutti Una stessa forma E uno stesso tutto Perché se noi spacchiamo Un blocco sotto una lanterna Questa cade Mentre sotto un pot Questo rimarrà in aria E questa lanterna invece Cade lo stesso Non ha senso Inutile dirlo Non so quante volte ho detto In questo video Non ha senso Però voglio che qualcuno Le continui i commenti Se lo sapete Mi raccomando Scrivetemelo sotto Però nel caso Non si fosse capito Molte cose su minecraft Non hanno senso E non pensiamo che Nelle versioni future del gioco Queste cose saranno meglio Infatti nella 1.17 Usciranno questi blocchi qua Che sono assolutamente bellissimi Ma se mettiamo Dei blocchi sopra Questi non succederà niente Mentre se mettiamo Una singola più Ma anche per esempio Questi faranno cadere Perché peserà troppo E non riusciranno A sorreggere tutto questo peso E lo faranno per sempre Cioè nel senso Non è che possiamo fermarli In qualche modo Perché non ha senso Non ha senso neanche questa cosa Comunque Qui io e il signor Pino Vi vogliamo salutare Perché comunque Questo video direi Che può finire qui Fatemi sapere nei commenti Quale di queste cose più strane Vi ha colpito di più A me al signor Pino Ci ha colpito di più Forse quella Sì direi proprio Quella dei pistoni Che si attivano Anche se non c'è Un segnale di Redstone Attaccato Perché non ho Effettivamente non ho capito Nulla di Redstone A quanto pare Quindi nulla Io e il signor Pollo Vi salutiamo Il signor Pino Scusami non volevo dire Il signor Pollo Mi scusi tanto Noi ci vediamo domani Con un nuovissimo video Buon Natale a tutti E felice anno nuovo